buona vigilia di natale a tutti oggi è il 24 mi sono appena svegliato sono le 11 e mezzo oggi vi andrò a far vedere cosa farò i due giorni di natale la vigilia di natale e niente vi chiedo di lasciare un like iscriviti al canale e andiamo alla giornata della vigilia di natale ovviamente voglio anche al giorno di natale cioè domani è chiaro il cappellino di natale allora calendario dell'avvento numero 24 un kinder card adesso ce lo andiamo a mangiare come colazione e dopo il pranzo e beh voglio mentre l'ho della panna casina mi gioco un po' con la palla qua la camera mia sinistro pazzesco 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 oh quanto tempo di natale sì 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora ragazzi a me mi hanno regalato questo magliore di Natale che mi tiene molto caldo e JD Nike, il classico pantalone della Nike che adesso non lo vado a far vedere. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Niente, fatemi sapere qua sotto nei commenti come avete passato il vostro Natale e niente, noi ci rivecchiamo ad un prossimo video. E poi io... Ciao.